Buongiorno a tutti, io mi chiamo Selena Sironi, sono docente di questo dipartimento, del dipartimento di chimica, materiale ingegnere chimica del Politecnico e sono responsabile scientifico del laboratorio olfattometrico. Il laboratorio olfattometrico principalmente fa una cosa un po' strana, cioè si occupa di studiare i fenomeni emissivi gassosi, in particolar modo tenendo in considerazione le puzze, gli odori che vengono emessi da siti industriali. Sembra una cosa strana, in realtà non è neanche tanto nuova, nel senso che il laboratorio è del 97, devo dire che dal 97 si è fatta tanta strada, nasce con l'emergenza rifiuti a Milano e cresce sempre di più perché l'esigenza del cittadino di essere sempre più tutelato anche da questo tipo nuovo di inquinante che è l'odore è sempre più sentita e quindi noi cerchiamo di, naturalmente con il nostro lavoro, di essere all'avanguardia dal punto di vista della ricerca, ma di seguire anche molto il territorio, cercando di offrire all'ente di controllo ma anche all'azienda un servizio al fine di valutare le concentrazioni olfattometrica, le concentrazioni chimiche, gli impatti che l'azienda ha sul territorio stesso. Quello che vi faremo vedere oggi è un percorso che vi vogliamo fare fare attraverso i nostri laboratori che seguirà un po' il percorso immaginario che facciamo noi in realtà in campo, cioè vi faremo vedere la fase di campionamento, dopodiché le diversi tipi di analisi che possono essere fatte in laboratorio, quindi l'analisi sensoriale col panel test, l'analisi tradizionale, l'analisi chimica e l'analisi con uno strumento che misura in continuo come il naso elettronico e poi vi faremo solo intravedere una parte di elaborazione dei dati che diciamo viene utilizzata per la modellazione matematica, cioè per cercare di valutare come l'emissione d'origine impatti sul cittadino e quindi quanto potenzialmente questa emissione possa dare fastidio al cittadino stesso. Buongiorno a tutti, sono Marcin Vernizzi, dottorando del Laboratorio Olfattometrico qui al Dipartimento di Chimica. Una delle principali attività del nostro laboratorio è quella di effettuare delle valutazioni di impatto olfattivo derivanti dagli insediamenti industriali e il primo step che deve essere effettuato quando si fa una valutazione di impatto olfattivo è il campionamento olfattometrico, per cui si utilizzano delle pompe di tipo a polmone per prelevare un'aliquota dell'aria effluente dall'impianto appunto per ottenere un campione da analizzare poi tramite olfattometria dinamica. La tipologia di pompe necessarie per poter rispondere a tutte le esigenze e tutte le particolarità dei vari impianti sono molto varie, per cui ci si è organizzate con diversi sistemi ad alta e bassa prevalenza e a portate variabili. Oltre a questi dettagli in realtà spesso le emissioni d'origine non provengono da sorgenti convogliate ma da sorgenti areali, quindi come vasche di depurazione o cumuli di discarica, per cui si rendono necessari sistemi AK come flux chamber o wind tunnel. Oltre al campionamento olfattometrico è poi molto spesso necessario effettuare una serie di diluizioni o misure di corollario, sia per ottenere informazioni riguardanti lo stato emissivo dell'impianto, sia per poter effettuare i campionamenti in sicurezza. Le emissioni di odore in realtà molto spesso non derivano da sorgenti classiche ma sono legate a emissioni molto complesse perché diffuse, quindi oltre a essere di difficile caratterizzazione è difficile addirittura effettuare un campionamento. In questo caso che cosa si fa? Si cerca di effettuare delle analisi di laboratorio volte a caratterizzare il potenziale emissivo del liquido che viene emesso per perdita diffusa, è come se venisse emesso piano piano da un certo impianto. Questo tipo di analisi lo si può effettuare su delle acque reflu e quindi su delle acque da depurare secondo la tecnica ben nota dell'odore emission capacity che invece noi abbiamo cercato di estrapolare e rendere utilizzabile anche all'interno di impianti chimici, petrolchimici e petroliferi e quindi cercare di quantificare il potenziale emissivo di diversi tagli idrocarburici. Qui vedete l'esempio di diverse tipologie di petroli e diverse tipologie di tagli distillati e semi lavorati che è possibile caratterizzare dal punto di vista o d'origine a livello quantitativo. In pratica abbiamo trovato la soluzione per riuscire a misurare quanto puzza la benzina. Oltre a questa tipologia di caratterizzazioni si affiancano molto spesso delle valutazioni di efficienza di abbattimento per cui si va a cercare di verificare e quantificare quale possa essere l'efficacia di abbattimento per alcune tipologie di inquinanti che si può riscontrare utilizzando diversi sistemi. Ad esempio qui potete vedere un sistema ad assorbimento per cui si cerca di verificare se un determinato sistema ad assorbente è utile, ha un'efficacia per abbattere un inquinante idrocarburico. Quella che vi facciamo vedere ora è un'analisi olfattometrica fatta con uno strumento che si chiama olfattometro che è sostanzialmente un diluitore. Quello che noi facciamo è a partire da il campione che preleviamo con i metodi che vi abbiamo raccontato precedentemente. Questo campione viene inserito all'interno di questa macchina di questo diluitore che è l'olfattometro e viene diluito a concentrazioni sempre decrescenti, quindi viene sempre più concentrato, fino ad arrivare alla soglia di percezione di ogni persona che è seduta all'olfattometro e fa la misura sensoriale. Utilizziamo un olfattometro a quattro postazioni che ci permette di fare oltre misure di concentrazione di odore anche misure di intensità dell'odore e anche misure di quello che si chiama tono idonico, cioè la gradevolezza e la sgradevolezza dell'odore che utilizziamo non tanto in campo industriale ma per esempio utilizziamo per fare analisi di prodotto. Potrebbe essere interessante capire come l'odore cambia e come l'odore muti tra un, diciamo, da un odore sgradevole con l'utilizzo per esempio di deodoranti a un odore che rimane sempre alla medesima concentrazione ma diventa gradevole. Quindi utilizziamo questa misura anche per fare questo tipo di test. Sono Elisa Polvara, dottoranda del laboratorio olfattometrico del Politecnico di Milano. All'interno del nostro laboratorio ci occupiamo della caratterizzazione chimica delle emissioni odorigeni provenienti da diverse tipologie di impianti industriali. L'odore dal punto di vista analitico rappresenta una matrice particolarmente complessa. Infatti è costituito da diverse tipologie di molecole spesso incognite e presenti in concentrazioni molto basse. Per questo motivo è necessario utilizzare uno strumento particolarmente performante per poter ottenere la completa caratterizzazione chimica delle emissioni odorigine. Nel nostro laboratorio utilizziamo una particolare tecnica analitica, la gas cromatografia accoppiata dalla spettrometria di massa. Questa tecnica nasce dall'unione di due tecniche preesistenti al fine di migliorarne le prestazioni. Infatti dalle capacità separative della gas cromatografia e delle capacità identificative della spettrometria di massa è possibile riuscire a separare le diverse molecole che costituiscono l'emissione odorigena e andarle a identificare e a quantificare. Ovviamente queste informazioni sono molto importanti dal punto di vista dei nostri studi. Questo perché avere le informazioni sulla quantificazione e sulla caratterizzazione dei composti presenti ci permette di descrivere la natura dell'emissione odorigena. Inoltre da un confronto con le concentrazioni di riferimento è possibile anche fare una valutazione tossicologica sull'impatto connesso all'esposizione per queste tipologie di inquinanti. Inoltre conoscendo le concentrazioni di molecole presenti all'interno dell'emissione gassosa è possibile anche osservare il rispetto dei limiti imposti dalle normative vigenti. Buongiorno io sono Laura Capelli e questi sono i nasi elettronici. Sin dagli alboroi del laboratorio olfattometrico che parallelamente alle analisi olfattometriche ci siamo occupati anche di analisi con il naso elettronico. Perché il naso elettronico? Perché tra tutte le tecniche che sono state illustrate prima per l'analisi degli odori il naso elettronico è l'unico strumento ad oggi in grado di effettuare un monitoraggio in continuo degli odori e di riconoscere la provenienza e quindi di determinare se un odore percepito proviene per esempio da una discarica o da una fonderia. La nostra attività di ricerca in questo ambito si è concentrata sullo sviluppo di nasi elettronici sempre più performanti, in grado di rilevare odori anche molto diluiti e in grado di operare anche in condizioni di atmosferiche variabili. Ad esempio questo strumento, le cui dimensioni sono certamente notevoli, è dotato di tutta una serie di dispositivi che consentono di avere risposte stabili nel tempo anche in condizioni di variazioni di umidità e di temperatura che naturalmente influiscono sul corretto funzionamento dello strumento. Oltre allo sviluppo degli strumenti ci siamo occupati anche dello sviluppo di metodiche di elaborazione dei dati sempre più sofisticati, questo proprio per cercare di fornire delle risposte accurate e stabili nel tempo. Grazie all'esperienza che abbiamo acquisito nell'ambito del monitoraggio degli odori ambientali, negli ultimi anni abbiamo esteso la nostra attività di sviluppo di nasi elettronici e delle loro applicazioni anche ad altri settori ed in particolare a quello medico diagnostico di cui adesso vi parlerà la collega. Buongiorno, sono Carmen Bax e mi occupo presso il laboratorio olfattometrico di nasi elettronici. Il naso elettronico è uno strumento in grado di simulare l'olfatto umano mediante l'impiego di un array di sensori da gas non specifici e di algoritmi dell'analisi statistica multivariata per l'elaborazione dei dati. Il naso elettronico fornisce un'impronta olfattiva per campioni odorigeni e pertanto a valle di una fase specifica di addestramento è in grado di fornire una stima della qualità olfattiva di campioni incogniti. Data l'evidenza sempre più spesso riportata nella letteratura scientifica dell'esistenza di una correlazione tra la presenza di una patologia e l'alterazione di fluidi biologici in termini di composizione e quindi anche dell'odore emanato dal fluido, una linea di ricerca attiva presso il nostro laboratorio si propone l'applicazione del naso elettronico per fini diagnostici. In particolare è in corso una collaborazione con l'ospedale Humanitas che si propone lo sviluppo di uno strumento diagnostico innovativo per la diagnosi precoce e non invasiva del tumore prostatica basata sull'analisi dell'odore delle urine mediante naso elettronico. I risultati ottenuti dal progetto Diagnose ad oggi confermano un'ottima capacità del naso elettronico di distinguere campioni di urina di soggetti sani da campioni di urina di soggetti affetti da cancro prostatico con un'acuratezza diagnostica superiore all'80%, decisamente più elevata rispetto alla capacità diagnostica del protocollo attualmente utilizzato. Inoltre l'analisi con il naso elettronico fornisce delle informazioni utili circa la stadiazione della malattia fornendo quindi gli strumenti per la definizione di un processo prognostico più accurato per i pazienti. I risultati promettenti potrebbero rivoluzionare il mondo della diagnosi come lo conosciamo attualmente. Le concentrazioni di odore restituite dalle analisi olfattometriche vengono utilizzate nella successiva fase di modellazione di impatto olfattivo. I modelli di dispersione sono dei codici di calcolo in grado di simulare il trasporto e la dispersione delle sostanze d'origine in atmosfera calcolandone, quantificandone le ricadute al suolo e restituendo quindi le concentrazioni di odore all'interno del dominio di simulazione. Per poter utilizzare questi strumenti è necessario fornire al modello una serie di dati di input tra i quali per esempio i flussi emissivi stimati appunto a partire dalle concentrazioni ottenute da olfattometria dinamica. Altra informazione fondamentale per il modello è il dato meteorologico che influenza pesantemente la dispersione delle sostanze in atmosfera. Fornite queste informazioni è quindi possibile effettuare delle simulazioni. Noi utilizziamo diversi modelli di dispersione più o meno complessi. In questo caso ad esempio stiamo conducendo parallelamente due simulazioni sfruttando da un lato il modello CalPuff che è un modello di tipo lagrangiano a puff e che rappresenta lo standard più comunemente utilizzato in Italia quando si parla di odore. Parallelamente stiamo utilizzando un altro modello più avanzato che è SPRAY ovvero un modello di tipo lagrangiano a particelle. Al termine delle simulazioni i modelli restituiscono delle mappe di impatto tipo una mappa di questo tipo che evidenziano le ricadute sul territorio e quindi permettono di quantificare le concentrazioni di odore che vengono percepite dal cittadino. Quindi il grande valore aggiunto di questi modelli è proprio la capacità di fornire informazioni in merito alla molestia olfattiva, al disturbo percepito dalla popolazione. È infatti fondamentale trasmettere il concetto che per quantificare la molestia olfattiva non è sufficiente valutare la quantità immessa, quindi non basta caratterizzare la sorgente da un punto di vista emissivo, ma è necessario valutare l'impatto sul territorio e a questo scopo tutte le linee guida italiane suggeriscono l'utilizzo dei modelli. Oltre all'utilizzo di modelli finalizzato alla valutazione dell'impatto legato a un'attuale condizione emissiva dell'impianto, questi strumenti possono essere usati a scopo previsionale, quindi nel caso in cui si vogliano installare nuovi impianti o apportare modifiche ad impianti già esistenti, si possono utilizzare i modelli per valutare preventivamente le eventuali ricadute che si avranno. Accanto all'attività di servizio alle aziende ci occupiamo anche di ricerca in questo ambito, cercando quindi di migliorare le performance di questi strumenti e di sviluppare metodologie innovative per la valutazione dell'impatto olfattivo. Bene arrivati, visto che siete a distanza di sicurezza posso togliere questa mascherina e raccontarvi un po' meglio dove ci troviamo. Ci troviamo al LABS, LABS sono un gruppo di laboratori, i laboratori di meccanica delle strutture biologiche, ce ne sono cinque fisicamente in questo spazio che visiterete fra poco e un sesto che sarà visitato successivamente. Perché meccanica delle strutture biologiche? Perché in questi laboratori studiamo il comportamento meccanico di dispositivi biomedicali, in questa vetrinetta potete poi osservarne alcuni. Il comportamento meccanico lo studiamo a diverse scale, dalla scala più macroscopica, quella del dispositivo, fino ad arrivare a scale microscopiche e scale addirittura cellulari. Lo studiamo dal punto di vista multifisico, vale a dire che studiamo la meccanica sia dei solidi che dei fluidi, che del trasporto di sostanze, siano esse dei gas o dei farmaci o anche il movimento di particelle. Lo studiamo con due diverse metodologie, una metodologia sperimentale, vedrete poi numerose strumentazioni nella vostra visita, ma anche con un approccio computazionale, vale a dire tramite simulazioni al computer, quindi facendo del calcolo e riproducendo gli esperimenti che vedrete in qualche modo. Il campo di applicazione è il più vario, nel senso che ci occupiamo sia del sistema cardiovascolare che di quello ortopedico spinale, piuttosto che il dentale, eccetera. Tutto quello in cui lo studio della meccanica, della biomeccanica in particolare, riveste un ruolo importante. Ed infine non studiamo solo i dispositivi, ma siccome i dispositivi devono interagire, interfacciarsi con il corpo umano, andiamo ovviamente a studiare anche la biomeccanica dei tessuti biologici e vedrete alcuni esempi nel giro successivo. Buongiorno, questo è il laboratorio di biomeccanica delle protesi. Oggi in questo laboratorio stiamo testando dei dispositivi per la cura delle patologie della colonna vertebrale. In alcune patologie, che possono essere patologie del disco intervertebrale o dei traumi, può essere necessario fissare alcuni segmenti della colonna vertebrale. Questo viene fatto infilando delle viti all'interno del corpo vertebrale e fissando a queste viti poi delle barre di metallo che tengono insieme i segmenti vertebrali. La preoccupazione è quella, prima che questo venga impiantato nel paziente, di verificare la sua resistenza. I dispositivi sono soggetti a dei carichi legati all'attività del cammino tipicamente del paziente e quindi in laboratorio di fatto simuliamo questa attività di cammino con queste prove cicliche che su dei simulacri di vertebra, che sono questi simulacri polimerici neri, e su dei simulacri di disco che sono queste molle rosse, applichiamo dei carichi simili ai carichi fisiologici del paziente per un determinato numero di cicli verificando che il dispositivo non si rompa dopo il numero di cicli prestabilito. In questo laboratorio ci occupiamo quindi di test su dispositivi molto diversi, ad esempio passando all'ambito cardiovascolare ci occupiamo di caratterizzazione di stent autoespandibili per il trattamento di patologie che riguardano le arterie delle nostre gambe e ad esempio del nostro collo. È importante che questi dispositivi riescano ad accomodare milioni di cicli di carico che prevedono delle ampie deformazioni. Per questo motivo è molto importante caratterizzare il materiale che solitamente ha una lega metallica che consente di garantire una super elasticità e quindi fare dei test su dispositivi che sono ad esempio dei provini a filo che sono molto simili alle maglie dei nostri stent e questi test vanno fatti in temperatura per garantire un ambiente simile fisiologico. Passiamo ad ora ad una scala decisamente più ridotta, sempre gli stessi dispositivi ma per il trattamento di quelle che sono le patologie che affliggono le arterie coronariche. Qui vediamo in una prova sperimentale di espansione libera uno stent metallico a rilascio di farmaco, ovvero il dispositivo che è considerato il gold standard per il trattamento di queste patologie. La seconda generazione, l'ultima generazione che invece considera dispositivi destinati al trattamento delle arterie coronarie è quello che rappresentato in questo video dallo stent polimerico biodegradabile, ovvero stent che una volta terminata la loro azione di supporto alle arterie vengono completamente biori assorbiti e quindi non rimangono in modo permanente all'interno del corpo umano. Queste prove sperimentali sono fondamentali per la caratterizzazione del materiale dei dispositivi ma anche per lo sviluppo di modelli computazionali che consentono ulteriori studi su tali appunto dispositivi biomedici. Buongiorno a tutti, mi chiamo Maria Laura Costantino e sono la responsabile di questo laboratorio. Ci troviamo nel laboratorio di organi artificiali, parte dei laboratori del labs e in questo laboratorio l'attività che si svolge è un'attività molto sperimentale sebbene sia accompagnata anche da forte attività modellistica, sperimentazione che riguarda la progettazione, il test e la valutazione di dispositivi di assistenza alla funzione d'organo e quindi una riproduzione delle funzioni d'organo anche volte verso la produzione di organi artificiali interni, quali possono essere sistemi di assistenza renale, sistemi di assistenza cardiaca, sistemi di assistenza alla respirazione. Quindi sono quegli organi vitali, quel componente di organi vitali che sono presenti all'interno dell'organismo. Da questo punto di vista si attua una sperimentazione, una progettazione che è progettazione meccanica, progettazione fluidodinamica e prova, valutazione, test di tutti questi, sia di dispositivi nuovi, sia di dispositivi già esistenti che per esempio vengono provati in laboratorio per essere validati per aziende che chiedono una valutazione della loro produzione dei loro dispositivi. Bene, tipi di dispositivi e di elementi che si provano sono per esempio ventricoli di assistenza, quali possono essere, scusate ve li prendo, possono essere, questo è un piccolo ventricolo di assistenza neonatale, quindi è un supporto ventricolare sostitutivo della funzione cardiaca del neonato. Oppure ci possono essere, vengono studiate in questo laboratorio, protesi valvolari, poi vedremo un esempio su banco di come queste protesi vengono valutate e testate, sia di strutture complesse o comunque strutture anche tradizionali, diciamo ormai molto consolidate a livello aziendale, sia a livello di nuove valvole che abbiamo sviluppato al nostro interno e che sono in fase di brevettazione per questo tipo di dispositivi. I materiali anche vengono studiati, ma non in questo laboratorio, vengono utilizzati, diciamo materiali ottimizzati in altri laboratori. Dal punto di vista invece della parte più, come dire, modellistica di quello che viene fatto all'interno del laboratorio, si tratta di modelli che possono essere modelli volti all'ottimizzazione delle terapie applicate sui pazienti e quindi modelli paziente specifici che consentiranno una migliore efficacia della terapia, una migliore risposta del paziente alla terapia applicata. Tipicamente, questo è un caso delle modialisi, in questo laboratorio si studiano modelli paziente specifici e abbiamo già ottenuto anche dei risultati piuttosto interessanti su un miglioramento della, come dire, della tollerabilità della terapia da parte dei pazienti. Naturalmente a tutto questo sottende una fortissima collaborazione con centri clinici. Abbiamo da moltissimi anni collaborazioni con centri clinici sia italiani sia stranieri sia anche non europei e in questo senso abbiamo potuto portare avanti ricerche molto interessanti e molto importanti. In questa parte del laboratorio ci occupiamo di simulazioni numeriche, soprattutto riferite al sistema cardiovascolare dove studiamo l'interazione dei dispositivi con i tessuti. Questo lo facciamo con le più sofisticate tecniche numeriche disponibili dal momento e collaborando anche con i maggiori centri clinici europei ed italiani. In particolare quello che vi voglio mostrare sono alcune applicazioni, una riferita all'impianto di una valvola cardiaca per via percutanea, quindi inserendola attraverso un catetere come quello che in questo momento ho in mano e successivamente vi faccio vedere anche qualcosa riferito alle artiere cerebrali e all'artiere del cuore. Il primo esempio che vi faccio vedere è quello che vedete in questo video in cui una valvola cardiaca viene impiantata e inserita all'interno della valvola malata e noi siamo in grado di studiare il comportamento del sangue, il danneggiamento che questa valvola può portare alle pareti della orta in questo caso, piuttosto che ai globuli rossi o alla parte corpuscolata del sangue. Questo è il primo esempio. Il secondo esempio che vi mostro è quello riferito a un dispositivo, questo che tengo in mano, che viene chiamato stent retriever, cioè una maglia che cerca di rimuovere il coagulo che si può formare all'interno delle nostre arterie del cervello. È una procedura relativamente recente, noi siamo stati in grado e siamo in grado di simularla, come si vede nel video, in cui il coagulo, quindi questo ammasso di piastrine e di globuli rossi e di fibrina che si trova all'interno dell'arteria cerebrale, viene rimosso con questo dispositivo meccanico, che è un dispositivo meccanico molto piccolo, le maglie raggiungono poche decine di micron e la simulazione numerica è un mezzo che ci permette di studiare nel dettaglio come questo può avvenire e come anche fine ultima è quello di ottimizzare la procedura. L'ultimo esempio è quello relativo all'impianto di uno stent nelle coronarie e nelle arterie che irrorano il cuore, in cui lo stent viene espanso e si vuole in qualche modo capire se questo dispositivo è in grado di ripristinare la perfetta perfusione del sistema e nelle nostre simulazioni anche di scegliere qual è ad esempio il dispositivo migliore. Buongiorno, questo è il laboratorio di micromeccanica, qui sostanzialmente studiamo il comportamento meccanico di materiali per applicazioni biomediche e di tessuti biologici. Noi focalizziamo la nostra attenzione su fenomeni che si manifestano alle piccole scale geometriche, al di sotto del millimetro o frazioni di millimetro. Per questo motivo i campioni che sono oggetti del nostro studio sono in generale di piccole dimensioni, abbiamo bisogno dell'ausilio dell'osservazione al microscopio per poter studiarne il fenomeno. Di conseguenza questi sono studi che sono tipicamente di carattere più fondamentale volti a determinare la relazione fra la struttura microscopica dei materiali e dei tessuti e le proprietà, con l'idea poi di chiudere il triangolo fra struttura, proprietà e funzione di materiali e tessuti. In questo laboratorio svolgiamo sostanzialmente degli esperimenti che possiamo qui raggruppare in tre, diciamo, classi fondamentali. Da una parte abbiamo una sollecitazione di tipo monoassiare, la chiamiamo noi, nel senso che applichiamo delle forze lungo un'unica direzione, studiamo il comportamento, la risposta meccanica del materiale in termini di sforzi e deformazioni e a titolo di esempio abbiamo qui, per esempio, nelle immagini un esperimento che riguarda, diciamo, una prova di flessione di un campione di tessuto osseo in cui, diciamo, le dimensioni caratteristiche sono inferiori al millimetro. Questo è un campione il cui spessore è di circa mezzo millimetro, che è, diciamo, sottoposto ad una prova di flessione di cui poi noi determiniamo le proprietà in termini di elasticità e resistenza. Una seconda tipologia di esperimenti è invece una caratterizzazione di tipo biassiale. Sostanzialmente in questo caso i materiali da testare sono in forma di membrane, cioè piatti, e vengono sollecitati secondo due direzioni e anche in questo caso ci si accompagna con l'osservazione al microscopio. Giusto a titolo di esempio, in questo momento, in questa attrezzatura, è montato un campione che riguarda, diciamo, una membrana realizzata in fibre, microfibre e nanofibre di seta, che vengono generalmente utilizzati come sostituti vascolari, di cui questo è un piccolo esempio. Anche in questo caso, diciamo, la sollecitazione biassiale, di cui qua se ne vede un'immagine, viene applicata fino a determinare le capacità, diciamo, ancora di elasticità e di resistenza dell'intera struttura. Un'ulteriore tipologia di esperimenti che realizziamo in quest'area è sempre un esperimento che si manifesta alla piccola scala ed è l'esperimento di nanoindentazione. In questo caso si tratta di studiare le proprietà superficiali dei materiali attraverso l'applicazione di una forza sulla superficie del materiale utilizzando una punta accuminata e molto rigida e dura, tipicamente in punta diamantata. La relazione fra la forza e lo spostamento durante, diciamo, questo esperimento ci consente di determinare le proprietà dei materiali e questo è un esperimento che è stato applicato con successo sia a tessuti biologici, come ancora una volta il tessuto osseo o il tessuto cartilaginio, così come anche i materiali per le applicazioni biomediche, per esempio in questo momento sono stati dopo che effettuati esperimenti su campioni in materiale metallico ottenuto con tecniche di manufattura additiva e di selective laser sintering. Vi parlerò del laboratorio di microfluidica del LABS. In questo laboratorio abbiamo della strumentazione che serve sostanzialmente a fare misure che ci permettono di seguire il movimento di particelle piuttosto che di cellule in canali molto piccoli che possono essere simulare, possono riprodurre dei vasi biologici piuttosto che invece dei condotti in dispositivi artificiali. Abbiamo della strumentazione che ci permette di misurare, di fare misure quantitative, quindi per esempio misura la velocità con cui si sposta una cellula, misura la velocità con cui si sposta una particella. Questi tipi di studi sono importanti perché noi abbiamo spesso a che fare con trasporto di farmaco all'interno del sangue, per esempio, piuttosto che trasporto di ossigeno all'interno del sangue. Abbiamo fatto misure su dispositivi che riproducono una porzione di un ossigenatore, un sistema che serve ad ossigenare il sangue quando il paziente ha il cuore infermo e quindi occorre sostenere la circolazione con l'apparecchiatura esterna. Abbiamo fatto delle misure, produciamo dei dispositivi in cui possiamo studiare come si muovono i farmaci in un sistema in cui facciamo crescere in vitro, quindi in laboratorio, degli organoidi, degli aggregati di cellule che possono riprodurre per esempio lo sviluppo di un tumore. Tutte queste misure devono essere fatte in ambienti che hanno le caratteristiche di questi condotti, di questi vasi, di queste strutture. Una cellula ha una dimensione che va dagli 8-10 micron ai 20-30 micron, un micron è un millesimo di millimetro. Quindi con questi sistemi, in questo laboratorio, riusciamo a misurare grandezze che sono praticamente impossibili da misurare nei sistemi reali. In questo laboratorio facciamo misure che servono a verificare che dei modelli al calcolatore che utilizziamo per progettare questi micro dispositivi funzionino correttamente. Tutto questo si inquadra in una serie di ricerche che, come dicevo prima, spazzano dai dispositivi artificiali in cui scorre il sangue ai cosiddetti labone C piccoli sistemi in quali riusciamo a muovere, a manipolare delle cellule. Allora, questo è il laboratorio di meccanica dei tessuti e 3D bioprinting, dove ci occupiamo di caratterizzazione meccanica dei tessuti al fine di capire l'interazione con dispositivi biomedici o protesi, che avete visto progettate e testate nelle altri laboratori dell'ANS, oppure per studiare anche l'interazione con farmaci. Ad esempio, fra i tessuti che abbiamo studiato ci sono l'osso trabecolare, la cartilagine articolare, il pericardio, la cornea. Oggi però vi vorrei parlare della retina, che è un tessuto complesso che è preposto a assorbire, modulare e trasmettere al cervello i segnali luminosi. Purtroppo affetto talvolta da patologie che possono portare a cecità, fra le quali ad esempio la degenerazione maculare semile o maculopatia, che affligge una percentuale elevata della popolazione con età maggiore di 50 anni. Questa patologia viene attualmente trattata con iniezioni locali di farmaco, che sono efficaci per bloccare e progredire della patologia, tuttavia comportano un fardello molto pesante sia per i pazienti che per i clinici. Per affrontare e migliorare quindi la cura di questa patologia, nel laboratorio abbiamo progettato un dispositivo rilascio controllato di farmaco, che studiamo sia con prove in vitro in simulatori della camera oculare in grado di riprodurre i movimenti saccadici, sia con simulazioni computazionali in grado di prevedere il rilascio di farmaco dal dispositivo. Questa idea innovativa ha portato al deposito di un brevetto e alla costituzione di una start up innovativa spin off del Politecnico, che si occupa dello sviluppo di questo dispositivo. Dal lato della caratterizzazione meccanica invece della retina, stiamo studiando la retina porcina, che è simile a quella umana, e la cui definizione delle proprietà è importante per la progettazione e lo sviluppo di un tessuto in vitro ottenuto tramite tecnica innovativa del 3D bioprinting. Il 3D bioprinting consiste nella stampa strato dopo strato di uno più bioinchiostri, con il fine di realizzare costrutti tridimensionali a partire da modelli digitali. I modelli digitali sono ricostruiti sulla base delle immagini TAC o risonanze magnetiche acquisite sui singoli pazienti. Durante la fase di stampa poi prepariamo il bioinchiostro, che potete vedere in questa cartuccia, per esempio, con cellule, quindi materiale vivente, cellule retiniche e con un gel scelto appositamente in modo tale che sia biocompatibile e in base alle proprietà meccaniche del tessuto che vogliamo realizzare, quindi nel nostro caso la retina. Una volta preparato poi viene caricato sulla stampante 3D e estruso tramite un sistema ad aria compressa. La retina così ottenuta potrà poi essere utilizzata in futuro per essere trapiantata nei pazienti che soffrono di retinopatie, in particolare della degenerazione maculare senile, permettendo così al paziente di recuperare la visione persa. La retina poi potrà anche essere utilizzata come modello in vitro per testare nuovi farmaci e nuovi dispositivi a rilascio di farmaco, come quello realizzato in questo laboratorio dalla spin-off del Politecnico MagShell. Il 3D bioprinting quindi permetterà di risolvere il problema dei trapianti, consentendoci quindi di ottenere dei costrutti tridimensionali che possono essere specifici per il paziente e anche realizzati con le cellule del paziente in modo tale da evitare i problemi di reggetto dei trapianti. Buongiorno a tutti, ci troviamo nel laboratorio di Meccano Biologia, uno dei laboratori del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica Giulio Natta ed è un laboratorio di colture cellulari di classe di sicurezza 2, dove noi sviluppiamo soprattutto tecnologie per manipolare le cellule fuori dal corpo umano. Quindi è un laboratorio di colture cellulari in cui c'è tutta l'attrezzatura, come vedete qui questa è una cappa flusso laminare che serve per poter manipolare le cellule in maniera sterile. Noi studiamo in particolare l'effetto della stimolazione meccanica sulla coltura di cellule e tessuti sviluppiamo quindi delle tecnologie come questa che vedete qua, che sono dei dispositivi che servono per riuscire a coltivare le cellule e a guardarci dentro attraverso degli strumenti di microscopi molto avanzati. Come vedete il laboratorio è praticamente tutto configurato per riuscire a progettare e sviluppare questi esperimenti con le cellule e a seguirli nel tempo. Per esempio vi faccio vedere lei, lei è Valentina che fa un dottorato di ricerca in questo settore e lei sta mettendo in piedi un esperimento in cui viene utilizzato questo dispositivo che è un bioreatore millifluidico che si chiama MOAB per riuscire a quantificare l'effetto della stimolazione meccanica in perfusione su delle cellule staminali del midollo osseo. Adesso Valentina ci spiegherà esattamente come ha sviluppato il suo esperimento. Buongiorno a tutti, sono Valentina Parodi, sono una studentessa di dottorato di bioingegneria presso il Politecnico di Milano. Oggi vi mostrerò come funziona la coltura in vitro di cellule staminali in un dispositivo che consente la perfusione. Le cellule sono seminate, sono conservate a temperatura controllata e a pressione di anidride carbonica mantenuta all'interno di un incubatore. In questo momento vi mostrerò come funziona la coltura dinamica attraverso questo dispositivo che si chiama MOAB, un dispositivo miniaturizzato che permette l'osservazione in tempo reale su tre camerette di coltura separate e indipendenti perfuse attraverso un sistema di tubi e tre siringhe separate. Il fluido entra all'interno delle camerette attraverso dei sistemi di ingresso e viene spinto grazie al flusso generato da questa pompa in uscita e conservato in un reservoir separato. Quello che possiamo osservare in tempo reale grazie all'accessibilità ottica offerta da questi sistemi che sono dei vetrini ci consentono di metterci a fuoco e di osservare le cellule in coltura. Qui abbiamo un esempio di cellule staminali e possiamo apprezzarne la loro disposizione sul vetrino e anche distinguere il loro profilo. Abbiamo ad esempio i nuclei che sono la massa più densa e la parte esterna che è il loro citosol e tutte le adesioni focali, quindi come le cellule restano adese. Un possibile esempio di saggio che possiamo fare è un saggio di vitalità. Qui per esempio colorato in rosso sono le cellule che hanno sofferto molto e che sono morte. In verde invece abbiamo le cellule vitali. In questo caso quindi possiamo osservare in tempo reale come stanno le nostre cellule e come risultano disposte. Sovrapponendo le due immagini inoltre possiamo vedere le cellule morte rispetto alle cellule vive come sono distribuite spazialmente. Un ulteriore test che si può fare su questo dispositivo, ad esempio, è osservarne la colorazione nucleare, quindi distinguere le singole cellule rispetto alle cellule che non sono risultate positive. Qui per esempio, in blu, abbiamo un colorante che si lega tra le basi azotate del DNA, risultando quindi specifico per i nuclei cellulari. Questa colorazione può essere condotta in condizioni vitali senza alterare la condizione di coltura delle cellule. Ci spostiamo adesso nella parte del laboratorio dove noi facciamo la maggior parte del lavoro di microscopia. Come vedete il laboratorio è questo, si chiama Lucid Lab, è un laboratorio di imaging intravitale. Abbiamo due microscopi con focale in questo momento, con uno noi facciamo gli studi più sui campioni fissati e con l'altro facciamo degli studi su campioni vitali. La persona che coordina questo laboratorio è la dottoressa Emanuela Iacchetti che vi racconterà il tipo di studi che fa microscopia. Buongiorno, sono Emanuela Iacchetti, lavoro al Politecnico di Milano come ricercatrice presso il laboratorio di meccanobiologia della professoressa Raimondi. Mi occupo principalmente di microscopia a fluorescenza, ottica a fluorescenza. Nel contesto della bioingegneria questo strumento è molto importante per svariati motivi. Il primo è che ad oggi riusciamo a vedere dentro i nostri campioni oggetti molto piccoli, talmente piccoli che raggiungiamo la risoluzione, quindi la dimensione delle proteine. La seconda è che siamo in grado di colorare i nostri campioni con svariati sonde che si chiamano fluorofori e quindi contemporaneamente possiamo vedere più proteine o elementi cellulari di interesse, nel nostro caso fino a 5. e in ultimo è una tecnica molto 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 importante perché è utile perché è al momento una delle poche che riesce a seguire in real time, in tempo reale, i fenomeni che noi studiamo. In particolare in questo laboratorio ci occupiamo di studiare come avviene l'interazione della cellula con l'ambiente circostante e come i fenomeni meccanici influenzano le caratteristiche cellulari. Quindi di solito quello che io faccio è seminare delle cellule su dei campioni tridimensionali, li porto sotto il mio microscopio, si mette a fuoco guardando negli oculari, a questo punto si può partire a fare le acquisizioni per poter vedere le proteine che sono state colorate. Nel nostro specifico caso studiamo dei campioni tridimensionali, quindi utilizziamo dei microscopi confocali che permettono di acquisire il campione nella sua interezza, quindi anche nella tridimensionalità, e studiamo le proteine che sono principalmente legate all'organizzazione del citoscheletro, che è quindi la parte strutturale della cellula, e del nucleo, quindi il DNA e la lamina, che sono due degli elementi fondamentali nel fenomeno della meccanotrasduzione. Alla fine di un'acquisizione, come in questo caso, io posso osservare come queste proteine si organizzano all'interno della cellula. In questo caso, per esempio, abbiamo colorato in rosa il nostro scaffolo tridimensionale, le cellule che vedete sono colorate in blu, verde, rosso e bianco, sono cellule mesenchimali e ne abbiamo fatto una ricostruzione tridimensionale che ci permette di visualizzare l'organizzazione dell'actina, quindi del citoscheletro, del nucleo, quindi in blu, e della lamina che è la componente rossa dell'immagine. Tendenzialmente questo noi lo facciamo su un campione tridimensionale, quindi che modellizza l'ambiente veritiero del corpo umano o di qualunque altro essere vivente, rispetto a un modello standard che si usa tipicamente un vetro, una lastra di vetro, che si usa appunto come gold standard e che però non è rappresentativo della tridimensionalità del mondo. Ci spostiamo adesso nella terza parte del laboratorio, che è quest'altro laboratorio di colture cellulari, dove noi sviluppiamo la parte di colture su supporti tridimensionali, che sono sia un supporto che chiamiamo nicchioide, che simula la nicchia staminale mesenchimale del corpo umano, sia un altro supporto che noi chiamiamo microatlas, che serve per visualizzare le strutture cellulari rigenerate all'interno di un animale vivente e che si utilizzano per fare studi preclinici anche di sviluppo di farmaci. In questo momento Claudio sta lavorando su uno di questi supporti tridimensionali e vi racconterà il tipo di studi e di esperimenti che fa lui. Buongiorno, sono Claudio Conci, dottorando di bioingegneria presso Politecnico di Milano e lavoro nel laboratorio di meccanobiologia della professoressa Raimondi. Oggi vi mostro un laboratorio biologico nel quale maneggiamo e processiamo cellule staminali a contatto con substrati tridimensionali. Con l'ausilio di un incubatore, qua alla mia sinistra, che permette di mantenere condizioni di cultura, quindi temperatura costante e stabile e un livello di umidità accettabile, espandiamo le cellule. Successivamente, con l'ausilio di un macchinario che si trova alla mia destra, quale è una cappa biologica flusso-laminare, processiamo queste cellule in condizioni di stabilità. Infatti un flusso d'aria, che si trova a questa altezza, permette di mantenere isolato l'ambiente all'interno rispetto all'esterno, evitando una contaminazione batterica dovuta all'ingresso dell'operatore. Noi in questo laboratorio processiamo le cellule a contatto con dei substrati tridimensionali per cultura statica. Un esempio è il nicchioide. Il nicchioide è uno scaffold con una risoluzione a livello della centinaia di nanometri, quindi alla nanoscala, e ci permette di interfacciarci direttamente con l'ambiente cellulare, condizionandone la crescita. Questi substrati vengono anche realizzati per l'utilizzo in animale. Abbiamo ad esempio il dispositivo che chiamiamo microatlas, che permette di fare crescere i vasi direttamente in un modello animale vivo. Questi dispositivi quindi vengono realizzati e caratterizzati con cellule, e poi possono entrare direttamente a contatto con un animale vivente. Grazie. 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 Grazie.